Grazie a tutti. Buonasera Presidente di Wisp, Vincenzo Manco. Buonasera Presidente. Buonasera, benvenuti a entrambi. Quaranta, no? Intanto diciamo subito, vivi città, che cos'è? È un discorso legato sia alla corsa ma anche soprattutto alla solidarietà, no? Sì, la Wisp 31 anni fa ha ideato quella che noi chiamiamo la più grande corsa del mondo, semplicemente perché ha due importanti caratteristiche. Una è di collegare città dal punto di vista diciamo internazionale, quindi quest'anno hanno corso 44 città italiane, 10 il 6 di aprile città straniera in tutto il mondo, nell'arco del mese di aprile ne correranno ancora delle altre nei diversi continenti. E la seconda caratteristica è quella di avere una classifica compensata, quindi si tiene conto di tutti i percorsi sia nazionali che internazionali e sulla base appunto della considerazione dei slivelli, altimetrie, dei percorsi e quant'altro si riesce poi a stilare una classifica unica. Chiaro che noi nell'idea di 31 anni fa volevamo dare un segnale forte e chiaro come si dice, quindi la grande valenza sociale è soprattutto in una prima fase marcatamente ambientalista perché il tema insomma nella stesso titolo diciamo della corsa il vivi città era di dare un segnale chiaro al decongestionamento delle città e del traffico diciamo cittadino. Abbiamo poi invece sviluppato molto il tema della solidarietà internazionale soprattutto in alcuni paesi, in settembre si correrà il vivi città in Libano per esempio e quest'anno abbiamo voluto invece caratterizzarla rilanciando il tema delle carceri. Eh sì, a Roma la corsa è avvenuta infatti nella carcere di Re Bibbia, un'esperienza devo dire incredibile, sappiamo che delle carceri ha parlato di recente Papa Francesco e anche la Presidente Napolitano, lo sport può diventare in questo senso un veicolo, un modo per far dialogare i detenuti idealmente con il territorio. Sì, intanto lo sport credo che sia importante per tutti noi perché ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio psicofisico. In carcere ha una valenza particolare perché lo sport è portatore ovviamente di alcuni valori quali l'aggregazione, l'autodisciplina, il rispetto delle regole, tutti elementi che consentono di di favorire il percorso di recupero dei detenuti. La pena ha una funzione rieducativa e in questo senso lo sport aiuta proprio per i valori che trasmette. Ecco, nel nostro istituto lo sport è molto amato, questa manifestazione è molto amata, infatti la vivi città è un po' una tradizione a Re Bibbia. Quest'anno chiaramente ci hanno proposto di far partire la gara da Re Bibbia e a questa proposta abbiamo risposto con grande entusiasmo. I detenuti hanno partecipato molto volentieri, 107 detenuti hanno partecipato alla gara, di cui 16 alla corsa competitiva di 12 chilometri, insieme ad un centinaio circa di atleti esterni, ad un gruppo delle fiamme azzurre e anche ad un gruppetto della polizia penitenziaria. Un'immagine che mi è piaciuta particolarmente vedendo la gara è stato un momento dell'arrivo della 12 chilometri quando un detenuto è arrivato in mezzo a due atleti esterni e si davano la mano e questa immagine mi sembra proprio che possa sintetizzare il valore di questa manifestazione, cioè la solidarietà e la condivisione tra il carcere e il mondo esterno, perché per noi operatori è molto importante il rapporto con il mondo esterno, perché il carcere possa svolgere la sua funzione rieducativa è importante che ci sia un collegamento con la società. Il carcere non può rimanere isolato e noi anzi cerchiamo proprio di lavorare molto e curiamo con molta attenzione i rapporti con il mondo esterno. Da questo punto di vista dottoressa lo sport come diceva prima è un veicolo sicuramente fondamentale per dare questo tipo di messaggio, quindi da questa iniziativa mi sembra di capire che cercherete di ampliarla, di averne altre sotto questo punto di vista. Beh proprio ripeto per i valori che ha lo sport noi intendiamo sicuramente implementare le attività sportive che peraltro già ci sono, perché ad esempio a Rebibbia c'è attualmente un campionato di calcio con otto squadre patrocinato dalla federazione gioco calcio dilettanti, ogni reparto ha un suo campo di calcio, ci sono quattro palestre di cui due all'aperto e l'importanza dello sport è stato anche di recente sottolineato dal protocollo d'intesa stilato tra il presidente del CONI e il ministro della giustizia, protocollo che sarò definito sport in carcere con cui si vuole proprio potenziare sia l'attività, la pratica sportiva e anche l'attività di formazione allo sport. Allora fin qui il vostro racconto, vogliamo ascoltare Paolo le voci dei protagonisti, di coloro che hanno partecipato a Vivi Città, sentiamo. Sono Fabrizio, è il terzo anno che partecipo a questa manifestazione, è un evento veramente importante che ti lascia un segno, ti lascia un qualcosa dentro che domani è un giorno diverso, penso anche per Tommaso sia la stessa cosa. Sì, certamente, io come ho detto poc'anzi è la prima esperienza e ritengo che effettivamente sia positiva, perché ho avuto modo comunque di avere un rapporto con i detenuti, ho avuto il modo di scambiarci delle idee e la cosa importante è che abbiamo contribuito a portare lo sport in una realtà che suppongo che non sia abbastanza presente. Grazie. Paolo, ricordiamo tra l'altro che oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Rio ha ricevuto proprio la delega per quanto riguarda lo sport, quindi insomma è una giornata importante anche per questo. Presidente, volevo ritornare con lei sulle caratteristiche delle varie città nelle quali si è svolta questa corsa. Mi piace ricordare Pescara con lo striscione dedicato chiaramente al drammatico terremoto che cinque anni fa colpì l'Aquila, piuttosto che l'aspetto delle scolaresche che hanno invaso Reggio Emilia, la piazza suggestiva a Siena di Piazza del Campo, insomma anche questo è molto significativo. Sì, perché poi la corsa ha assunto come dire caratteristiche appunto specifiche, noi scegliamo di lasciare liberi i nostri territori diciamo di esprimersi, di presentare le varie formule. Io aggiungerei a quelle esperienze un'altra diciamo una corsa nella corsa se vogliamo e i vent'anni della corsa di Sarajevo. Noi vent'anni fa decidemmo con grande coraggio, dopo diciamo la buona riuscita possiamo dire oggi anche con grande orgoglio di assumerci della responsabilità di dare un grande segnale di pace. Quella corsa vent'anni fa si svolse all'interno di una palestra con il rischio del cecchinaggio, come dire, noi eravamo in periodo di piena guerra e anche lì la WISP attraverso il Vivi Città volle dare un segnale come dire chiaro di presenza. Quindi il coinvolgimento delle scuole, il coinvolgimento e soprattutto la sensibilizzazione, i segnali di sensibilizzazione che noi vogliamo dare alle istituzioni perché il tema diciamo soprattutto della situazione all'Aquila credo che abbia bisogno di focus specifici. Noi non volevamo dimenticarlo, abbiamo ben presente diciamo le difficoltà di quella città, siamo stati presenti appena dopo i giorni del terremoto costantemente nel rapporto con le istituzioni, cercando anche di assumere rapporti costanti con le società sportive dell'Aquila e della provincia, abbiamo voluto anche quest'anno dare un segnale chiaro con la corsa di Pescara. Le scuole è l'altro tema, l'altro tema che congiunge ecco la necessità di lanciare un segnale perché attraverso lo sport si possa costruire come diceva prima la dottoressa del Villano, si possa costruire appunto gli uomini e le donne future di questo paese, si può attraverso lo sport migliorare il paese. C'ho una curiosità da parte di Marcello. Sì, per la dottoressa, mi ricollego alle parole del Presidente, questo discorso dello sport utilizzato per ricostruire il paese ma anche per ricostruire la dignità di queste persone, sono persone che hanno sbagliato, che stanno pagando e che quindi giustamente anche stanno scontando una pena in carcere. Una curiosità personale da giornalista, qual è la percentuale di recupero fatto base 100 di chi entra oggi in una carcere italiana? Cioè, quanti non ci ritornano più? Ecco, per capirci. Allora, la cosa che posso dire è che la recidiva si abbassa molto nel momento in cui la persona ha avuto la possibilità di lavorare, di accedere a misure alternative, quindi ha avuto delle opportunità. Circa dal 63% si abbassa al 47% più o meno, cioè sono percentuali che si abbassano notevolmente quando si danno delle opportunità. Ma già all'interno del carcere o post carcere? Parlando di recidiva si intende chi rientra dopo aver già scontato la sua condanna, quindi per un nuovo reato. Quindi non rientra chi ha sfruttato il carcere positivamente, quindi chi ha occupato il suo tempo per qualcosa di utile, di fattivo. Per questo dicevo che è importante dare delle opportunità, perché se la carcerazione rimane un tempo vuoto si rischia che non abbia alcun senso. Invece se c'è la possibilità di offrire opportunità, far intravedere anche alle persone che ci sono delle possibilità all'esterno, questo sicuramente li aiuta poi a poter ritornare nella società e quindi poter intraprendere un percorso diverso. Presidente Manco, ci sarà in Libano la corsa per la dignità. Quale sarà il percorso e quali le finalità? Allora, noi riprenderemo un po' le caratteristiche della corsa in Libano che c'è stata l'anno scorso. L'anno scorso l'abbiamo fatta in aprile, quest'anno ci sarà in settembre. Cercheremo di riportarla in due luoghi importanti e simbolici del Libano che sono Balbek e Sidona e all'interno del Vivi Città noi abbiamo questo progetto Sport e Dignità che vuol dire la raccolta fondi attraverso la corsa per poterli poi investire nella costruzione di palestra in cui si svolgerà attività di ginnastica e di pallavolo così come abbiamo già fatto nell'allestimento di altri strutture sportive nei campi profughi palestinesi rispetto alla prepugilistica. Lo faremo coinvolgendo quest'anno anche lì facendo un focus sulla particolare situazione dei profughi siriani non soltanto con i ragazzi, con i bambini palestinesi e libanesi ma coinvolgendo anche la comunità dei profughi siriani quindi tenendo insieme tutti lanciando anche lì un segnale di pace e di solidarietà. Quasi come di formazione professionale, importantissimo discorso chiaramente della solidarietà, del messaggio nelle sociali, ma chi ha vinto? Io voglio chiare i tempi, voglio avere un po' di pergine. Allora ha vinto la classifica maschile. Ecco, vede come però Presidente questo è importante perché è passato in secondo piano il risultato. Cioè, no, capisci, vuol dire, è giusto il messaggio. Siamo riusciti a focalizzare la nostra attenzione sull'obiettivo più importante. Questa trasmissione sportiva devo vedere chi è classificato. Raccolgo però il segnale e ringrazio per questa, diciamo, inversione di tendenza, diciamo, del valore dello sport, quindi assolutamente. Nella classifica uomini ha vinto Caimmi, Daniele, che tra l'altro ha corso nella gara di Ancona. Secondo e terzo posto invece due marocchini che hanno corso a Civitavecchia, mentre la classifica femminile è stata vinta da Sonia Stolic, una tra l'altro nazionale bosniaca, con, diciamo, un tempo anche particolarmente importante. Quindi, giustamente, il Vivi Città è una gara competitiva. È assolutamente. È una gara competitiva e ha un grande valore sociale sul tema dei diritti. Assolutamente, non ci soffreggiamo più. Vorrei conoscere anche il nome del vincitore nell'ambito del carcere di Rebibbia. De Rosis Riccardo ha vinto la 12 km come rappresentante a punto interno. Allora, il nostro coordinatore, Massimiliano Mascolo, mi dice che possiamo ascoltarlo. Vediamo cosa ha detto. Giustamente, ha vinto, bisogna sentirlo. Mi chiamo Riccardo De Rosis e dedico questa vittoria a tutti i carceri d'Italia, in particolare a mia moglie, mi fio e tutta la famiglia mia. È una grande soddisfazione aver vinto questa maratona e ringrazio tutta l'organizzazione che ha organizzato tutta questa maratona. Giustamente, mi sembra la dedica che è perfetta, voglio dire. Per cui, da questo punto di vista, adesso c'è un campione da battere. Cioè, voglio dire, ci sarà anche uno spirito di competizione, immagino. Di sana competizione. Sì, beh, diciamo che questo aspetto c'è, ma prevale, credo, l'aspetto della festa, del momento di condivisione, senz'altro. Anche perché è un momento in cui loro si trovano in uno spazio molto aperto, uno spazio così bello. E quindi, anche a contatto con tanti atleti esterni. E quindi, ecco, diciamo che è un po' la gara... Comunque anche su questo interverremo, eh. Certo. No, nel senso, il tema formativo che veniva richiamato è il senso di continuità del rapporto associazionismo-territorio-istituto penitenziario per dar l'idea che non è soltanto il 6 di aprile che si corre, ma è una cosa che si prepara e che costantemente... Presidente, siamo in chiusura. Scorrono i titoli di coda. La prossima iniziativa promossa dalla WISP, alla quale Rai Sport è sempre vicina? Noi avremo il Bici in città in maggio, quindi è un'altra delle grandi iniziative. Su quello vi chiederemo di essere presenti e già vi ringraziamo per quello che fate, così come anche... E vi chiederò chi vince, perché ovviamente... Anche lì, assolutamente, non ci sottrarremo neanche in quel caso. Quindi grazie. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie anche a Marcia Bulpis per questa maratona. Paolo, noi ci riveliamo domani con i nostri telespettatori puntuali 16.30, pomeriggio da campioni. Vi aspettiamo. Buonasera.